Buongiorno, sono Guido Garrone, ho 60 anni, ho avuto il piacere di essere assunto in questo palazzo, piano terreno, nel 1987 e iniziare un percorso di formazione in questa società vedendo tanti aspetti della tecnologia. Infatti sono poi uscito dalla SIRTI nel 1999 e ricoprivo il ruolo di direttore tecnico. In quegli anni ho conosciuto tante persone e soprattutto ho apprezzato la capacità di essere presenti in concreto in Italia e nel mondo nel mettere insieme le migliori tecnologie, nell'accesso, nel trasporto e nei sistemi di controllo delle reti, su cui ho imparato il mestiere. Negli anni successivi ho lavorato come cliente di SIRTI in numerosi operatori, siamo stati assieme al collega Trondoli fondatori di Fastweb Metro qua a Milano, poi questa esperienza mi ha portato in Svizzera alla Swisscom come direttore tecnico e dell'IT di quell'operatore di rete, rientrando, sono rientrato nell'albero dello sviluppo di Open Fiber e ultimamente sono in Eolo che utilizza le tecnologie wireless per fare l'accesso. Ecco, in tutto questo percorso credo che quello che ho imparato in quei primi 12 anni di lavoro me lo sono portato come bagaglio, come capacità di integrazione che è un elemento assolutamente da tenere vivo e che auguro che SIRTI continui a progredendo nel futuro con le nuove tecnologie a tenere vivo, soprattutto creando giovani che abbiano passione e voglia del lavoro. E quindi è un grande piacere essere qui di nuovo in questo palazzo, brindando con tutti i colleghi per il centenario un compleanno significativo che compie un secolo ma ne apre sicuramente un altro e spero altri ancora, perché per come sta andando il mondo che si sta digitalizzando di infrastrutture per lo sviluppo di servizi digitali ci sarà sempre bisogno.